Buonasera a tutti, come state? Spero di cuore che state bene. Qua è sera già, si è fatta la sera, il tempo passa subito, domani c'è la festa, festa della Repubblica Italiana. Si festeggia oggi lunedì e domani martedì, i bambini sono stati a casa, non sono andati a scuola, mercuredì vanno già a scuola. Allora, sono entrata a salutarvi, non ci siamo visti di un po' di tempo e vi ho preparato anche a voi, diciamo così, una cosa interessante, dico io, per tutti voi che mi seguite, tutti voi che hai seguito il mio canale e che vi piace quella che faccio io, ok? Dicendo questo vi ringrazio, vi auguro di cuore tante belle cose e iniziamo un po' con, parlando in generale, così vi faccio una lettura nelle carte, parlando di amore, prima di tutto, lo facciamo in due varianti, un po', vediamo un po' che succederà, no? Parlando di amore, voglio vedere un po' perché litigate, no? In caso in quale, no, dimenticate che è una lettura generale, non è una personalizzata, per letture personalizzate mi state cercando su WhatsApp. Adesso parliamo solo di amore, vogliamo vedere perché voi litigate, che siete marito, moglie, che siete compagni, che è la vostra finanziata, vogliamo vedere quale motivo perché si litiga. Vediamo che vi esce una energia, che vi dice una energia, perché qua c'è un rapporto freddo, perché qua la donna, diciamo così, è cattiva. O è diventata cattiva perché tu come uomo gli hai fatto qualcosa in passato e lei è diventata fredda, vedi? A questa donna che ci tiene in mano sua, ci tiene quel cuore che lo spezza, come se forse lei non ce l'ha sentimenti, ok? In caso in quale vi trovate su una relazione di genere che lei non ce l'ha sentimenti, o non ce l'ha sentimenti per un passato suo, dove ci ha stata ferita, dove ha avuto tanto da soffrire, o non ce l'ha sentimenti per via di, come si chiama, che voi, in tutto questo rapporto che siete insieme di undici anni, di dieci anni, un rapporto più lungo, ha fatto qualcosa contro di lei, no? Diciamo che l'ha stradito e lei va perdonato, va scomportato un po' come vi siete comportati, guarda qua, che lei adesso non ce l'ha, come si vuole dire, c'è un rapporto dove lei è fredda, è cattiva, o probabilmente voi lo fate diventare così, no? O la vostra famiglia, dipende, qua si tratta che perché litigate, litigate proprio per questo, per freddamento, no? Vediamo un'altra carta che dice l'amore, rimanete o non rimanete insieme, con la finanziata, con la moglie, con... Che succede qua? Vediamo. Per rimanere insieme con una donna, donna vostra, donna di vostro cuore, di vostra anima, dovete luttare, in caso in quale siete uomo, siete bruno, bello, no? Passato di 43-44 anni, dovete luttare per avere a fianco la vostra donna, di nuovo vi esce un separazione, che c'è un matrimonio, che c'è un finanziamento, non importa, qua serve che uomo sta luttando un po', no? Come se forse donna e stanca di tanta lutta, che ha fatto tanta guerra con questo personaggio, non vuole fare, è stanca, no? Io vi dico che qua serve la... serve che si fa qualcosa, se non fate qualcosa, allora mi dispiace, non vedo che rimanete insieme. La domanda era rimanete o non rimanete insieme, dipende tanto di lui, di uomo, delle sue iniziative, e di tutto ciò che lui farà, per rimanere o non rimanere insieme, ok? Vediamo adesso, del lui o lei è destinata, c'è un rapporto destinato, vediamo, un rapporto destinato. Parliamo solo di amore, ok? Perché questo è obiettivo, solo amore. Desete una copia destinata che rimanete insieme. Qua purtroppo c'è un meccanismo un po' difficile, non posso dire 100% che siete destinati, però io credo che no. Perché qua è un rapporto un po' complicato, diciamo così, caratteri un po' complicati, lui fa quella che gli pare, lei fa quella che gli pare, si litiga spesso, non si ascolta uno di altro, tutti fanno della testa di loro. Qua è un rapporto un po', anche rimane in piedi questo rapporto, che c'è di tre anni insieme, sette anni insieme, non lo so. Però è un rapporto un po' complicatissimo per dire siete destinati o non siete destinati. Si tratta di orgogli, si tratta di vanità, si tratta di tante altre cose e non credo che siete destinati fino alla fine. Vabbè, non per tutte le persone che vi guardate qui, però. La vostra felicità, fammi vedere quale è in amore la vostra felicità, sono curiosa. Quale è in amore la vostra felicità? Fammi vedere un po' qual è la vostra felicità. Eh, la vostra felicità è in amore e finanzamento vostro, che siete finanzati, è una felicità per voi, no? Che non siete finanzati, troverate una persona che vi chiede a finanzarvi o a sposarsi, vedete, anello di sposamento è questo. Vuole dire che per tante persone la parola, la vostra felicità, quale è? È proprio la felicità di vostro matrimonio, di vostra copia, di vostro finanzamento, che lo avete insieme, no? Quella è la vostra felicità. E in caso in quale siete soli, eh, troverate fra un po' di tempo, venticinque punti, venticinque giorni. E nel giorno di venticinque di maggio, troverate, eh, un uomo che vi chiede, eh, sposarlo o finanzarlo. Quella sarà la vostra vera felicità. Vediamo adesso se avete energie negative sul vostro rapporto, se c'è qualche energia malina che sta sul vostro rapporto, sono anche io curiosa. Sì, qua c'è una donna cattiva che ha fatto qualcosa di brutto in vostro passato perché voi non sarete mai felice. Si tratta di un vostro passato, di un vostro ex, dove lui aveva probabilmente un'ex moglie, una moglie indietro, una donna indietro, che quella, Bruna, è andata alle streghe e ha fatto un po' di cose. Ecco perché adesso è in presente di voi, avete una relazione complicata, dove litigate, diciamo così, dove non mai state bene insieme, dove non mai c'è armonia. E vi chiedete come mai, perché tutto era a posto, tutto così, guardate che qua si tratta di proprio un'energia che c'è quasi tre anni su di voi, che non è un'energia bellissima, è un'energia cattiva, che si tratta di una ex moglie o una ex finanzata, una ex compagna sua. Vediamo un po' che vi dice un angelo, un angelo per amore, vi ho detto parliamo solo di amore, vediamo un po' che vi sta dicendo un angelo, qua, angelo, angelo, che dovete fare voi in situazioni un po' complicati, in amore, vediamo un po' che vi sta. All'angelo Raffaele vi sta dicendo così, dice stile di vita sano, dovete cambiare stile di vita, all'angelo Raffaele segui una dieta sana, dormi a sufficienza e svolgi regolarmente attività fisica per avere una salute ottima. Vi dice che voi ogni tanto non vi prendete cura di voi come vi deve prendersi una persona, dice che voi dovete seguire una dieta un po' più sana, probabilmente non dormite a tempo, fate abusi di alcol, fate abusi di caffè o di droga o perché no di sigarette o non dormite sufficiente o siete un po' stressati, argelo Raffaele vi viene in aiuto, voi potete mettere una candela di colore verde, scrivete argelo Raffaele, scrivete il nome vostro, il nome di vostro amore, chiedete aiuto da questo argelo, sicuramente lui ci viene in aiuto, vi aiuta sicuramente, vedete trovate una candela di colore verde crudo, chiamatelo e lui sicuramente arriverà a farvi veri i vostri desideri. Questa è già stata per prima variante, cerchiamo a farci un po' chiarezza anche per seconda variante, vediamo un po' che vi esce a voi in seconda variante, in amore, perché litigate diciamo così, perché ci avete problemi in caso in quale avete litighe, vediamo un po' quale è il problema, perché litigate. Litigate perché voi come donna ci volete studiare, o siete una donna che ci avete un orario lungo a lavoro, lavorate tanto, siete troppo impegnata e non ci avete mai il tempo della famiglia, e questa cosa qua porta litighe diciamo in famiglia, perché non siete mai presenti, perché siete mai con studi, probabilmente siete maestra, la università o lavorate, non lo so, una secretaria, perché qua studiate, studiate tanto per fare un esame o qualcosa, anche se non siete sposate, se siete finanzate, avete università per dare lauree, studiate tanto e vi allontanate un po' di vostro partner, e lì iniziano problemi, diciamo così, no? Vediamo un po' di rimanere insieme su questo rapporto, di si rimane insieme, vediamo un po' di si rimane insieme, no? Io vedo che qua, probabilmente non tutte le persone, vi piace la vita libertina, no? Sì, c'è la possibilità che la persona vi sposa perché lui è innamorato tanto di voi, però voi siete il tipo di persona che vi piace anche la libertà, siete indipendenti come donne, non tutte le donne, no? Allora, in caso in quale vostro partner o vostro marito non è d'accordo con questa faccenda, diciamo così, io vi sto dicendo che prima un po' voi lo lasciate, perché a voi non vi sottomette nessuno, vi piace la libertà, vi piace uscire quando vi pare, andare dove vi pare, non vi piace che qualcuno vi dice qualcosa. Qua in tanti casi io vedo rapporti che finiranno, non rimanete insieme, perché di lui è geloso o insistente, possessivo, voi lo mandate in quel paese, diciamo così, no? vediamo adesso un po', vediamo un po' il vostro destino, di lui è destinato, lui o lei siete destinati a rimanere insieme? che sarà un no, qua no, qua mi esce no, qua mi esce che tante persone come uomini siete rimasti soli, ok? la donna è morta, diciamo così, o morirà per l'amore di Dio, o non è vostro destino, perché quando esce così esce che non è vostro destino, o non potete riprendervi dopo una morte della vostra donna, di voi come donna, avete un uomo che l'ha trovato solo, che la donna è morta, lui non si può riprendere, no? E non riesce che il vostro destino, la decisione, lo deve prendere lui. In caso in quale siete sole, per momento non trovate niente, la strada giusta per amore non lo trovate, rimanerate sole, però in caso in quale vi fate domanda di lui è mio destino, non è vostro destino, non è, forse non in tutti i casi, però non è vostro destino, va bene? Qual è la vostra felicità? Vediamo, la vostra felicità, vediamo che vi esce la felicità, per momento la vostra felicità sarà un uomo che lo conoscerete, che questo uomo viene da lontano, in caso in quale siete già su un inizio di amore, per voi questo amore che va fatto perdere mondo intorno, significa che è tutto per voi, è allegria, è che ti voglio di, che vi voglio di allegria, felicità, e in caso in quale siete sola, mi scusate, trovate un personaggio che vi fa, trovate probabilmente la discoteca, lì dove andate a bailare, non lo so, trovate una festa, un uomo importante per voi che vi porterà allegria e la felicità, ok? porterà allegria e la felicità. Vediamo che in vostro amore c'è qualcosa di negativo, c'è qualcosa che non va, diciamo così, no? Vediamo un po' c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, no, qua non sono problemi in amore, qua sono problemi con dinaro, qua ci avete problemi con vostro compagno, vostro marito, vostro finanzato per via di soldi, o lui vi rifaccia, che vi dà tanti soldi, o voi dicete che lui è chirchio, che non vi dà niente, no? Perché qua si tratta di soldi, voi avete problemi qua, non ci sono problemi di magia, di blasfemi, ci sono problemi di vanità per soldi, in tutto, cioè lui non vi vuole dare soldi, o voi spendete tanto come dona, qua sono problemi di soldi, forse non in tutte le copie, no? Vediamo anche un archangelo che vi sta dicendo anche voi, di seconda variante, ragazzi, vediamo un archangelo, un saluto di cielo, vi dice archangelo, asiele, asarele, i tu cari in cielo stanno bene, lasciate andare le preoccupazioni e sentite le loro amorevoli benedizioni, vi dice che qualcuno è morto, che voi l'ha amato tanto, vi ho detto un marito o la moglie, voi parlate con loro, mettete ogni tanto una candela, parlate con loro, loro sono sempre presenti come angeli custodi con voi e vi stanno proteggendo. Allora, in caso in quale voi volete avere una risposta ben precisa in amore, in caso in quale ha sperso un marito, ha sperso un amore, chiamatele archangelo, asarele, vedete una candela di colore blu, cielo, no? E scrivete su questa candela il nome di lui, di archangelo, no? Archangelo, asarele, il nome vostro, e desiderio che voi lo avete. Vedrete, vedrete che voi pregatela a questo maraviglioso arangelo, lui vi porterà fortuna e in amore, perché vedete, vi dice non mai piangete, non mai soffrite, perché le persone che sono in cielo stanno bene lì dove stanno, voi lo dovete lasciare andare, non mai piangere, questa vuole dire le preoccupazioni e dovete vivere la vostra vita, bellissimo. Fate questo ragazzi e vedrete che le strade vi si aprono, perché niente non è per sempre in questa vita, niente. Che vi voglio dire? Io dicendo questo vi abbraccio di cuore, vi auguro una bellissima serata, insieme con la vostra famiglia, insieme con chi amate voi, vi voglio tanto tanto bene, vi abbraccio di cuore, vi mando tanta energia di luce, ci vediamo alla prossima.